Salve community e bentornati nell'Effaverse, che bomba di D23 che ci ha droppato la Disney. C'è talmente tanta roba che ho cercato di dividere i due video, vorrei parlare di Disney e Fox, quindi anche Star Wars in questo video e poi più tardi farò uscire un video dove parlo solo ed esclusivamente di quello che è stato mostrato per l'Expo dei Marvel Studios. Allora, ci arrivano tante conferme, tante novità, hanno fatto vedere tante cose, anche noi che non siamo stati alla convention abbiamo avuto modo di dare un'occhiata a progetti di cui ancora non avevamo visto niente e quindi partirei proprio da tutto il fronte live action e Fox. È stata presentata la seconda stagione di Percy Jackson, io non ho finito nemmeno la prima, ma c'è stato un momento in cui mi sono sentito davvero fuori target e dovrei recuperarla o comunque finirla, ma per adesso non mi sento proprio invogliato, magari fatemi sapere se a voi ha convinto e magari merita davvero di essere recuperata. È stato presentato anche un film sui Monster Truck, Monster Jam con The Rock, quindi il sodalizio tra Disney e The Rock continua, non solo il live action di Oceania, non solo la parte di Maui, anche doppiate in Oceania 2, ne parleremo dopo, ma tante tante altre cose. Chissà se The Rock non ce lo ritroviamo pure in Marvel, ma in quel caso Kevin Feige dovrebbe stare attento perché poi qua lo vuole fare il capoccia. Oltre a questo c'è stata anche la conferma di Quel pazzo venerdì 2, abbiamo avuto Jamie Ricartis e Linsley Loan parlare verso il pubblico. Io lo aspetto, mi piace il primo, anzi ho voglia di rivederlo adesso e non vedo l'ora di vedere il secondo, mi piacciono. Magari alcuni diranno, eh questo usato si vuole, me ne frega niente, voglio vederlo. Tronares esiste? Sì, lo sapevamo che esisteva, sì, ci sono stati dei ritardi, delle situazioni quando collocarlo o meno. confermata la data di uscita per il 10 ottobre 2025. Del film mi interessa veramente poco, so già qualcosa della trama, però è stato interessante vedere il ritorno di Jeff Bridges e soprattutto quello che forse mi venderà il progetto a prescindere è che la colonna sonora verrà curata dai Nine Inch Nails. Quindi io sono già a bordo per cui me ne fregava niente, poi è apparso il logo con i laser e quindi niente. Anche Tronares nel mezzo, dai. Spostandoci sul fronte Disney Live Action, una novità importante, Lilo e Stitch. Noi avevamo fatto le nostre previsioni, poi avevo mandato il programma agli abbonati, sapevo che in qualche modo l'avrebbero mostrato, ma una chicca fondamentale è che il film è stato confermato per l'uscita al cinema. C'è un vago, un vaghissimo estate 2025, ma il film arriva il prossimo anno direttamente in sala. C'è stato un primo first look di Stitch, molti erano preoccupati, anch'io, ah ma quale sarà la resa grafica? Inizialmente il film era stato pensato per Disney+. Ancora una volta Bob Iger ci dice basta piattaforme streaming, mandiamo tutto al cinema. Ed effettivamente per quel poco che possiamo vedere del piccolo mostriciattolo alieno, il rendering convince particolarmente. Quello che riguarda il pelo, anche le sue animazioni, io sinceramente molto più in là delle più rose aspettative. Quindi anche per questo sono curioso e devo andare a rivedere il classico perché me lo ricordo poco, l'ho visto pochissimo. Andando avanti, sono stati mostrati i primi concept di Avatar 3, abbiamo un titolo, confermata la data d'uscita 19 dicembre 2025, quindi ci aspetto un 2025 di fuoco. A me gli Avatar piacciono, il secondo addirittura mi è piaciuto più del primo. Va bene, al netto di qualche lungaggine, io sono in hype, a me piace. Ogni volta che si va a vedere un Avatar, il secondo me l'ha confermato, non lo so, per me è un evento. È come assistere ad un certo tipo di cinema che fu, e infatti James Cameron non si smentisce mai. Capirete che è stato un expo veramente, veramente coi muscoli. Infatti, andando avanti, è uscito un trailer, il primo trailer di Biancaneve, è un teaser a tutti gli effetti, perché vediamo La strega cattiva di Gal Gadot, non l'avevamo mai vista, Biancaneve muoversi nella casa dei sette nani, per adesso ce li mostrano come nani, e non come creature magiche. C'è stato un dietro front, forse li hanno voluti fare in CGI senza dargli quel nome lì, sappiamo che ci sono state delle polemiche, riguardo questo film ci sono delle polemiche pure per Rachel Ziegler, per tutto sappiamo che il budget è di 160 milioni, perché il film girato in Regno Unito può usufruire di sgravi fiscali, quindi secondo me, per quanto riguarda il tipo di scommessa al box office, potrebbe farcela, al netto di tutte le polemiche. E contro ogni aspettativa mi è piaciuto anche questo, non so se è tutto l'entusiasmo in generale, ma anche questo, forse mi è piaciuta la fotografia, sparare i colori al massimo, poi dobbiamo vedere qualcosina in più per giudicare quanto risulterà finto, in generale però per quel che non avevo aspettative, perché tra tutti i live action che si potevano fare, per me Biancaneve era all'ultimissimo posto, mi mangio questa minestra, ed è una minestra che mi ha comunque sorpreso. Tra i vari trailer che ci sono arrivati, Mufasa, prequel del Re Leone che è uscito nel 2019, la CGI è da sistemare, si vede che alcuni personaggi ripresi dal Re Leone sono fatti meglio rispetto a quelli nuovi, ma perché se hai gli asset pronti è più facile renderizzarli, sono già lì, quindi Timone e Pumba ad esempio rendono meglio di altri personaggi inediti che vediamo in questa pellicola. Film completamente nuovo che ci narrerà una storia dell'ascesa di Mufasa, questo trailer scende proprio nel dettaglio, racconta tanto Mufasa che spunta dal nulla, non si sa come, Scar non è davvero suo fratello, però insieme lottano contro un leone bianco cattivo che vuole diventare re delle terre del branco e Scar insieme a Mufasa dovranno combattere insieme contro questo tiranno e c'è proprio un'esplorazione del rapporto tra Scar e Mufasa che ad alcuni sicuramente avrà emozionato, io sono curioso di vederlo, però allo stesso tempo c'è tanta emozione, c'è tanta esplorazione di questo rapporto, peccato che poi Scar uccide Mufasa come una merda. Questa cosa dobbiamo un po' capire come la vorranno gestire, è ovvio che secondo me è ancora più ambizioso portare una storia completamente nuova che va anche a stravolgere il rapporto tra i protagonisti del re leone originale, vediamo, io sono un cuore sì o un cuore no, questa cosa qui non è che mi piaccia particolarmente, io avrei preferito Scar no punto, e invece non sono quindi fratelli di sangue, certo dice non si assomigliavano per niente, uno ha avuto, cioè uno sembra un leone incredibilmente fiero, l'altro sembra un chihuahua scappato fuori dal microonde, quindi poi certo vedremo. Data confermata 20 dicembre quest'anno 2024, nel frattempo ditemi la vostra sui trailer, su tutto quanto, io sto cercando di andare in ordine perché passiamo alla Walt Disney Animation, sono state mostrate delle scene di Zootropolis 2, film che arriverà il prossimo anno, data confermata 26 novembre 2025, io Zootropolis l'ho scoperto solo recentemente, periodo pandemico, l'avevo completamente schippato, faccio mea colpa perché mi ha colpito tantissimo, e anche questo voglio rivederlo di nuovo perché mi era piaciuto un botto. A questo è seguito anche Frozen 3, sono stati mostrati dei concept, uscita Natale 2027, e è stato detto che risponderà a tante domande rimaste in sospeso, è stato confermato che stanno lavorando due film, quindi Frozen 3 e Frozen 4, questo conferma anche gli scoop che mandai tanto tempo fa agli abbonati. Non sono un fan di Frozen, però non mi fa nemmeno così cagare, non ho mai visto il secondo però, quindi come faccio a dire? Il primo non mi ha fatto proprio cagare, devo vedere il secondo, però magari per i fan questa cosa saranno contenti. E a proposito di contentezza, un altro trailer è arrivato per Oceania 2, l'ho rivisto settimana scorsa, Oceania è poderoso, mi piace la storia, mi piace il modo in cui è renderizzato, ragazzi, è renderizzato da Dio, c'è l'acqua che sembra vera, è talmente fotorealistico che è da spacca a mascella, e questo trailer conferma tutte le buone impressioni degli altri, e o hype. Anche qui Oceania confermato a novembre di quest'anno, vediamo ancora più Maui, capiamo anche la missione di Vaiana, perché da noi non è Moana, è Vaiana per tanti motivi che non sto qui a dirvi, perché in pratica lei vorrebbe adesso unire tutte le tribù, vorrebbe unificare proprio tutti i mari, e sente questo richiamo degli antenati. E io sono già lì in sala. Spostandoci verso l'ambiente Star Wars, prima di arrivare a Pixar, hanno mostrato delle prime sequenze di The Mandalorian e Grogu, questo dimostra come la serie, cioè la quarta stagione di The Mandalorian, sia diventata un film, quindi avevano già delle robe pronte da mostrare. Forse l'unica cosa di cui sono contento, per quanto riguarda questo progetto, è il ritorno in sala. Non ce l'avrei fatta a guardare una quarta stagione di The Mandalorian, non mi ricordo più nemmeno la terza, e non se la ricordano nemmeno loro che l'hanno fatta. Quindi sì, va bene così. Hanno mostrato la seconda stagione di Andor, per quello che è stato mostrato, per quello che è stato detto, anche per il ritorno di Ben Mendelsohn a fare Krennic, è ovvio che la storia si avvicina sempre di più agli eventi di Rogue One a Star Wars Story. Lo sapevamo, questa è l'ultima stagione, a me Andor è piaciuta, nonostante forse alcuni momenti morti, è stata una, forse una rivelazione in mezzo al marasma di serie Star Wars, so che i veri appassionati si sono rotti le balle, quindi, che dirvi? A voi è piaciuta Andor? A me sì. Per The Mandalorian e Grogu, ho dimenticato di dire, ho dimenticato di dire che per The Mandalorian e Grogu, l'uscita sembra confermata il 22 maggio 2026, quindi sarà davvero il primo film di Star Wars ad arrivare, se tutto va bene e poi arriverà quello su Rey, New Jedi Order, chiamiamolo così, l'episodio 10. Andando avanti, restando con Star Wars, hanno mostrato il primo trailer di Skeleton Crew, progetto seriale ambientato sempre nella galassia lontana lontana in arrivo su Disney+, che ci fa vedere per la prima volta questo manipolo di Giovincelli, questo Goonies in un certo senso, perché lo ricalca tantissimo, abbiamo i pirati, abbiamo questi Giovincelli a caccia di qualcosa, vediamo perfino qualche scheletro qui e lì, John Watts gira il tutto, regista della trilogia di Spider-Man dei Marvel Studios, credo che sia stato dirottato lì per due motivi, uno per toglierlo dalla regia dei Fantastici Quattro, e l'altro perché comunque sa come gestire certi toni, soprattutto Tin, perché ho detto Goonies? Perché sì, assomiglia tanto ai Goonies, il trailer si chiude con il primo sguardo a Jude Law e ci rivelano essere un Jedi, sì, Jude Law è un contrabbandiere, questo posso rivelarvelo, non posso dirvi altro, se no vi faccio spoiler, è un Jedi che dopo l'Ordine 66 ha deciso di fare il contrabbandiere. Per me la trama è una chiavica, però vedendo il trailer è stato accattivante, è forse un modo per vedere qualcosa di diverso, ci sono questi giovani, poi magari sarà pieno di forzature. Potrebbe essere quello che Acolyte per me non è stata, perché volevo qualcosa di diverso, di frizzante. Il trailer mi ha sorpreso, non me l'aspettavo. Ultimo, ma non meno importante, Pixar! Pixar tra annuncioni e robe, qui me la prendo un po' a male, me la prendo un po' a male perché ho cercato di tirare a indovinare, nel senso, Pete Docter aveva detto dovremmo annunciare un film. Qual è il film che è stato annunciato? Gli Incredibili 3. È stato annunciato, il sequel è ufficialmente in sviluppo, sulla questione usato sicuro meno, ci ritorneremo dopo. Però è stato annunciato anche Hoppers. Hoppers è un film originale, quindi non è tutto usato sicuro, un film originale che segue la storia di una giovane ragazza Mabel che può trasferire la sua mente in un castoro robotico con l'obiettivo di infiltrarsi nel regno animale. Finisce per fare amicizia con un castoro reale, il re George, e unire gli animali per combattere contro i piani di un imprenditore immobiliare. Qui ho cannato malissimo perché la fonte a me aveva detto annunceranno un film chiamato Hopper, la S non l'aveva scritta. Quindi essendo che gira voce di un revival, di una ripresa di Abag's Life, pensavo fosse un film prequel su Hopper, il villain proprio di Abag's Life. Stavo volando, ho tirato a indovinare, lo so, però era una S che divideva il sogno da... Sono curioso di vedere questo progetto, però capirete un po' l'amaro in bocca. Ci sono cose interessanti come Toy Story 5, confermato il 19 giugno 2026, abbiamo anche il regista Andrew Stampton, ha rivelato sul palco del D23 che questa volta i giocattoli dovranno affrontare una sfida molto impegnativa quando si scontreranno con l'elettronica. Io, allora, a me piace che stia tornando Toy Story, però dovete sapere una cosa. non ho ancora visto il 4 e molte persone non mi hanno invogliato a recuperarlo, quindi io non mi sono ancora abituato a sentire Woody senza la voce di Fabrizio Frizzi, perché chi l'ha visto nel 2019 ormai magari ci avrà fatto il callo, Angelo Maggi sarà stato bravissimo. Io invece questa cosa non l'ho avuta, non ho avuto modo di elaborarlo, però dovrei cominciare a farci conti con questa storia del doppiaggio. soprattutto se poi alcuni mi dicono no, guarda Toy Story 4 fa cagare, è ancora peggio. Per questo non sono stato invogliato negli anni. Tra le serie è stata presentata anche Win or Lose, una serie Pixar che arriverà su Disney Plus e parlerà di una fatidica partita di softball in maniera molto particolare. Ho visto il teaser, molto carino. Vediamo un po' come la Pixar deciderà di affacciarsi su Disney Plus. Si, l'ha fatto con Monsters & Co. hanno anche presentato Elio, film Pixar che arriverà il 13 giugno 2025 e quindi il prossimo anno. È stato annunciato che Zoe Saldana si è unita al cast vocale. Hanno fatto vedere praticamente una clip, hanno mostrato qualcosa in più. Il film segue le vicende di Elio che è un ragazzo che si trova accidentalmente teletrasportato in un'organizzazione interplanetaria dove viene scelto come ambasciatore della Terra verso le altre galassie. Io non vedo l'ora. Boh, non lo so, sarà stato che tutta l'onda dell'entusiasmo e voglio vedere tutto. Tutto. Anche quello di cui non me ne frega niente. Però voglio vedere tutto. Poi è stata presentata anche la serie su Inside Out. Si sapeva che sarebbe arrivato uno spin-off dedicato su Disney Plus. La serie si chiamerà Dream Productions. Hit Doctor ha annunciato ufficialmente Dream Productions serie tv ambientata nel mondo di Inside Out. Si tratta di uno show ambientato nella fabbrica dei sogni di Riley. Quindi vedremo questa fabbrica è tutto interamente ambientato lì. Non so che cosa aspettarmi però dopo Inside Out 2 possono fare di me quello che vogliono. Sto facendo un video dove sembra un bimbo Disney ma chi se ne frega. Questo era il panel al D23. hanno spaccato ragazzi per certi versi il D23 si dimostra meglio del Comic Con ma si dimostra soprattutto un expo capace di stupire e di convincere anche i più scettici perché se io fossi un investitore mi arriva tutta sta roba incredibile. Per quanto riguarda la questione Pixar che ancora adesso si parla tanto di usato sicuro come se la gente avesse deciso di fare gli ignorri io passo a farvi vedere una piccola cosa ma anche perché ne ho bisogno io per me stesso. Praticamente quando si parla di usato sicuro la Pixar adesso fa solo sequel guardate quanti sequel hanno presentato la D23 che non è vero perché ci sono in realtà ci sono anche i progetti originali ma una cosa che ne abbiamo già parlato in live ma è necessario dirlo ai 420 ragazzi la Pixar ha sempre fatto sequel ha sempre fatto sequel e nel frattempo grazie al successo dei sequel è riuscita a trainare nuove proposte non ha mai fatto solo roba originale ma mai 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 andiamo a vedere anche a voler fare semplicemente un esempio partendo dal 2015 al 2019 tra un Inside Out un Coco e un Viaggio di Arlo abbiamo avuto alla ricerca di Dory Cars 3 gli Incredibili 2 e Toy Story 4 li hanno sempre fatti il sequel trainava il nuovo progetto era per questo che poi si diceva Pixar 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 perché in qualche modo riusciva sempre a mantenerti l'entusiasmo speriamo che l'entusiasmo di Inside Out 2 possa portare fortuna a Elio io ci spero e magari anche con l'eco di Oceania perché comunque si è Walt Disney Animation ma la gente non è che le sa queste cose quindi era solo per dirvelo perché sta cosa dello stato sicuro soprattutto per la Pixar non sta in piedi mai basta solo dare un'occhiata molto bene per quanto riguarda l'Expo Marvel Studios vi ho detto che uscirà un video più tardi lì c'è tanto da dire perché è stata mostrata parecchia roba quindi dovremo analizzare trailer per trailer ma intanto questo primo video finisce qui ditemi commentate siete contenti cosa aspettatevi di più cosa vi ha incuriosito dei trailer quali vi sono piaciuti voglio sapere veramente tutto io vi chiedo di lasciarvi un like se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale stiamo crescendo vi abbraccio tutti fantastico ho inaugurato un nuovo livello di abbonamento per farvi pregustare un pochino l'Efevers cliccate sotto abbonati e avrete tutte le informazioni sui vari vantaggi che vi spettano adesso c'è il terzo livello che è il mini insider che è diciamo il livello di mezzo quindi andatelo a scoprire e per il resto ci vediamo sempre qui anzi ci vediamo più tardi Filippo F chiude